Sono 12 le associazioni combattentistiche ed arma cui han dato il contributo complessivo di 420.000 euro stanziati dalla regione. 4 nel territorio triestino, l'Associazione Lagunare Truppe Amfibie, la Fondazione Nazionale Arditi d'Italia, l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, l'Associazione Nazionale del Fante, 3 nel Pordenonese, l'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, l'Associazione Nazionale Fanti d'Arresto, 5 nel territorio udinese, il gruppo Alpini Trivignano Udinese, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Latisana, l'Associazione Aviatori d'Italia di Manzano, l'Associazione Nazionale Alpini di Cividale e quella di Palmanova. Stamani il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Claudio Giacomelli ha illustrato alla stampa la razio del provvedimento, stanziato sui fondi destinati alla cultura. All'incontro era presente anche l'assessore Anzil. Possono essere sia attività di manutenzione che di divulgazione o anche di incontrare i giovani. Ad esempio uno dei progetti di Trieste prevede un approfondimento a cura di un'associazione d'arma proprio della conoscenza dei ricreatori dei giovani, delle persone a cui i ricreatori sono dedicate. Non è un provvedimento di retroguardia. Secondo l'esponente Meloniano, le associazioni combattentistiche d'arma, insistendo sul passato, in realtà consentono uno sguardo più ampio sul futuro. Non si parla di coraggio, di abbenegazione, di sacrificio, che invece nel passato di questa regione è stato fondamentale. È una regione che ha attraversato veramente da purtroppo protagonista le due guerre mondiali. Allora forse ricordarci tutti che ci sono delle qualità che hanno contraddistinto le persone del nostro territorio, delle qualità che ci vogliono far dimenticare. No, non è retroguardia, è tanto, tanto futuro.